Alessandro Zan, relatore del DDL sull'omotransfobia che tanto sta facendo discutere a livello nazionale, ha Treviso il 22 maggio per un dibattito in Piazza Rinaldi, evento inserito nella terza edizione del Cupido Treviso Equality Festival, la rassegna dedicata alla cultura omosessuale, bisessuale e transgender organizzata dal coordinamento LGBT di Treviso. Quello sarà proprio l'occasione migliore per conoscere e soprattutto anche alla data del 22 di maggio capire quali saranno le ulteriori evoluzioni di questo disegno di legge. Noi vogliamo parlare a più persone di diverso tipo, magari persone che non hanno mai avuto modo di assistere magari ad un dibattito con Alessandro Zan, in marito al DDL che sta presentando e quindi noi vogliamo proprio parlare al territorio. Festival in programma dal 14 al 23 maggio con un fitto calendario di appuntamenti anche in presenza, dal cinema al fumetto, dai libri al cabaret, al centro la questione del linguaggio come strumento di inclusione ma se usato negativamente anche di violenza. Sono decisamente lontani i tempi in cui Treviso respingeva questo genere di tematiche, la Commissione e i pari opportunità del Comune ha anzi offerto il patrocinio. Tante volte le persone hanno paura di ciò che non conoscono. Secondo me sarebbe importante che le famiglie frequentassero per esempio coppie dello stesso sesso che hanno figli o che conoscessero nella loro vita una persona che abbia fatto il percorso di cambio di sesso. Toccando con mano la realtà delle altre persone si capisce che non c'è tutta questa paura giustificata.